La città di Pesaro avrà presto un nuovo palazzetto, lo stesso che a fine agosto ospiterà l'ultimo evento in programma del Rossini Opera Festival. Si tratta del vecchio Palace di Via Marconi, punto di riferimento per la cittadinanza, che d'ora in poi accoglierà non solo eventi sportivi, ma anche concerti. I lavori stanno procedendo speditamente e dentro fine mese la struttura avrà il suo nuovo tetto, come spiega di fronte alle telecamere di Fano TV l'assessore alle opere pubbliche Enzo Belloni. Il vecchio palazzo dello sport è un asse strategico tra il lungomare e il centro storico. La GM ha chiesto anche la deroga per lavorare fino alle 24, quindi stanno mettendo grande energia, perché il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avere il concerto di chiusura del Rossi del 22 agosto all'interno del vecchio nuovo palazzo dello sport. I giorni scorsi è arrivata la copertura, nel frattempo le squadre lavoreranno sia sopra che sotto perché ovviamente i giorni lavorativi non sono tanti e l'impegno invece è molto pressante. Una struttura che sarà destinata ad ospitare altri eventi oltre a quello del Rossi? È chiaro che una struttura come questa ha una valenza dal punto di vista culturale, dal punto di vista della convennistica, oltre che dal punto di vista sportivo. Noi abbiamo tanti eventi sportivi, adesso è finita la pandemia, ci auguriamo che riparta tutto forte come era prima, nei mesi di aprile, di maggio, di settembre. Quindi possono convivere tranquillamente, è un'arena da 1900 posti circa a sedere, quindi che può ospitare anche i famosi concerti, non da 10.000 che si fanno alla Vitifrigo Arena. Quindi è una struttura intermedia, tra il Teatro Rossini, che è un salotto di grande eccellenza, con circa 800 posti, agli 11.000 posti dell'Adriatica Arena. Questo diventerà un teatro anche per 1900 persone, che è un target dove ci sono molti artisti che saranno in grado di essere ospitati. Grazie.